Il T-Lab è un laboratorio di competenze ed è fondamentalmente legato ai territori che ospitano gli approdi del T-Renial Link. È stata sin dal principio la volontà di Terna di far sentire a questi territori la propria presenza, ma anche di attingere da questi territori giovani leve che fortunatamente, soprattutto nel sud Italia, non mancano e che grazie alle facoltà che abbiamo coinvolto, quindi le università di Salerno, di Cagliari e Palermo, potranno accedere a questa iniziativa. Parte del T-Lab è questo master che avrà lo scopo di formare e di specializzare questi giovani laureati nelle materie specificamente connesse con la transizione energetica, che poi è la missione vera di Terna. Che messaggio possiamo dare ai giovani che oggi si sono anche espressi in maniera numerosa per candidarsi? Guardi, io darei ai giovani lo stesso messaggio che do ai miei tre figli. Bisogna scegliere non un mestiere nella vita, ma un ideale dei valori e una missione, perché i giovani possono essere per il nostro futuro e devono essere fondamentali. Loro sono, rispetto alla mia generazione, molto più inclini a quello che oggi noi chiamiamo tutti la sostenibilità. Nascono digitali e hanno un pensiero più ampio e più laterale del nostro, quindi io veramente confido in loro moltissimo. Da quale stimolo nasce questo master? Ma, come dicevo prima, nasce dalla volontà di essere connessi ai territori che noi con i nostri impianti tocchiamo ed essere connessi con la realtà della cultura, della formazione e delle giovani leve su questi territori. Io penso che Terna in questo momento è tra le grandi aziende che sta facendo qualcosa di veramente valido per i giovani, ma non siamo certo gli unici, ma ciò che credo ancora più fortemente è che saranno i giovani che faranno qualcosa per noi.